Benvenuti nel mondo degli orologi Sniper. Sniper è un marchio di orologi svizzero nato nel 2008 con l'obiettivo di creare orologi di alta qualità per gli appassionati di orologeria e per chi cerca la precisione e la qualità della lavorazione svizzera. Il design degli orologi Sniper è ispirato al mondo militare, con un look robusto e funzionale che richiama alla mente l'equipaggiamento dei soldati. La produzione degli orologi Sniper avviene interamente in Svizzera, dove gli esperti artigiani utilizzano solo materiali di alta qualità per creare orologi resistenti all'usura e allo stesso tempo eleganti e raffinati. I materiali utilizzati includono acciaio inossidabile, titanio e cristallo zaffiro, che garantiscono una lunga durata e una grande resistenza ai graffi. Se sei un appassionato di orologeria e cerchi un orologio di alta qualità, Sniper potrebbe essere la scelta giusta per te. Con il loro design unico e la loro precisione svizzera, gli orologi Sniper sono un'ottima scelta per chi cerca un orologio che sia un po' fuori dal comune.